aiaia uno uno due uno due basta 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 ciao Titti ecco questa è Titti la nostra assistente coreografa a questo piacere bravissima cara Sandra non c'è? eccola dove? ah si è lì Ciao Gianni Ciao Ma perché hai portato anche Ago? Scusa Ma perché? Che c'è? Ma perché sono così, c'ho solo le cose per dimagrire Oh tesoro, sei bellissima, sei affascinante Ciao Sandra E poi è bravissima Ma certo, Sandra è sempre bravissima Franco? Sì? Ti spiace, scusami Ciao, ciao Volevo presentarti, ecco questo è Franco Miseria, il nostro coreografo Ago, spiacere, bravissimo, eh Beh, Bob Fox Eter dov'è? Chi è? Come chi è? Eter Parisi Ma perché la Parisi? Prova qui Ma perché non hai provato, ti dà fastidio? Ma no, non è che mi dà fastidio, è che c'ho su sta roba, mi secca, portati qui tutto Ma assurdo, Eter dov'è? Scusa, non c'è, arriverà, scusa Vabbè, vabbè, vabbè Vedi? Non è una professionista, è una ragazzina montata Perché alla sua età noi arrivevamo alle prove un'ora prima Sì, 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 Sandra hai provato i costumi? Sì, sono andata, non lo so cosa c'ho addosso io quest'anno, non mi va bene Ciao Ciao, ciao Ciao Ciao, ciao Rami Ciao Rami Ciao Come si chiama? Rami Rami è un diminutivo di Raimondo Eh, carino E questo chi è? Questo? Sì Questo è un attore professionista sempre puntuale alle prove, cara Ah, certo Sì, è Gianni Agus Gianni, Gianni Agus Piuttosto tu hai provato i costumi? Ma non ho bisogno di provare, sto bene anche con uno straccio Ho vent'anni Maleducata anche Lascia perdere Sì, lascia perdere Senti, il ballo hai provato il... Io? Eh Ma lui mi spiega subito, non c'è problema Eh, presuntuosa Lascia perdere Eh, lascia perdere Scusa, vuoi vedere il balletto? Com'è? Lo sa già? Certo Certo C'ho vent'anni Sì, dite, io ne faccio a meno, me ne vado No, no, no No, no, vuole dare la soddisfazione Non diamo la soddisfazione Che genere di ballo è? Sono rock, Raimondo Sono tutti rock Quest'anno le fa tutti rock Tutta roba forte, giovane Tutta roba giovane fa Hai capito? Anche lui, come sensibilità, è un elefante, proprio Lascia perdere Eh, lascio perdere Ok, ragazzi, allora, si prova anche quei ringraziamenti Pronti? Come i ringraziamenti? E chi applaude? Sono già registrati Ah, hanno registrato gli applaudi, sono sicuri, eh? Guardami i rami, guardami Eh, rami secchi Sì, sì, andiamo, andiamo, andiamo Ok, allora, pronti ragazzi? Via!